Due progetti canterabili saranno realizzati a beneficio della viabilità intercomunale di Gela. Lo ha confermato l'ANAS al sindaco Domenico Messinese nel corso di un proficuo confronto voluto dal primo cittadino. Una delle opere è la rotonda di contrada femmina morta. Cristina Trambaioli di ANAS Sicilia ha comunicato che il progetto è stato consegnato all'ufficio tecnico dell'azienda e l'istruttoria sarà espletata per la concessione e convenzione con il comune di Gela. Per quanto riguarda invece lo svincolo Manfria-Roccazelle, il progetto seguirà le indicazioni dell'ANAS. In questo senso l'iter di entrambe le opere sarà accelerato così da poter usufruire dei finanziamenti del patto per il Sud. Oltre a Trambaioli per l'ANAS erano presenti il responsabile dell'area compartimentale Nicola Montesano, i capi Nucleo e Centro Pietro Lattuca e Rita Giglione. Al tavolo l'assessore comunale ai lavori pubblici Flavio Di Francesco ha invitato anche i progettisti delle opere di cui si è parlato. Dall'incontro inoltre è emerso che dopo anni di stop forzato sarà completata la manutenzione straordinaria della rotatoria della strada statale 117 bis Gela-Catania. Al progetto sono stati adeguati gli importi necessari all'ultimazione dei lavori dopo una sospensione causata da provvedimenti giudiziari sull'impresa aggiudicataria. Affrontata anche la questione relativa alla cessione al comune di Gela del cavalcavia della strada statale 115 all'uscita per Vittoria. Il mancato adempimento nei verbali di consegna tra l'altro fa presupporre che l'infrastruttura non sia di competenza comunale ma è stato comunque assicurato un approfondimento della vicenda e cui verbali di accordo risalgono ad oltre 15 anni addietro. Il sindaco ha inoltre illustrato ad Anas il progetto di una strada a quattro corsie tra Gela e Catania rispolverato dagli archivi comunali e redatto dalla stessa azienda negli anni 90. Trambaioli ha disposto una verifica per comprendere l'ammissibilità dell'opera nei piani futuri. Infine al tavolo si è occupato anche della circonvalazione tra la statale 117 bis e la strada a scorrimento veloce per Caltanissetta opera che alleggirebbe il traffico su via Venezia. Il progetto ha spiegato Messinese ha superato le fasi preliminari e quindi potrebbe già essere appaltato dall'Anas. L'incontro segue le interlocuzioni avviate dall'amministrazione comunale di Gela con le sedi nazionale e regionale dell'ente che gestisce la rete stradale italiana.